Dopo le notizie rientriamo in studio, io sono in compagnia di Romolo Perrot, attivista del Movimento 5 Stelle. Benvenuto. Grazie per l'invito. Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, lei è uno dei principali autori del documento scuola redatto dal Metap. Che cos'è in realtà? Di che cosa si tratta? Si tratta dell'esito di un lavoro abbastanza ampio che si è articolato nel corso di tre anni, che ci ha visto incontrare i protagonisti della scuola, studenti, insegnanti, genitori, anche personale, ausiliario, tecnico, presidi. Abbiamo raccolto tutto ciò che gravita intorno alla scuola, ci sono proposte, ci sono anche critiche. Dopodiché è nata l'idea di redigere un documento di proposta. E questo documento è abbastanza alternativo, è un documento che non mira a sistemare l'esistente, ma soprattutto rifacendosi a esperienze educative valide, alternative, a pensare un modello di scuola anch'esso alternativo e finalizzato anzitutto a formare le coscienze e a formare dunque dei cittadini attivi, partecipi. Ecco, ci sarà un appuntamento importante l'11 e 12 novembre, giusto? Che rappresenta in qualche modo il momento conclusivo di questa esperienza di lavoro. Ricordiamo dove ci sarà? Si terrà l'11 e il 12 di novembre nella scuola dello Spirito Santo, in piazza dello Spirito Santo, che è nella città vecchia, ai piedi della Villa Vecchia. Avete scelto in realtà un logo simbolo poi per questo progetto, per dare le indicazioni reali di quello che sarà questo progetto? Di fatto è così, quella struttura scolastica è una struttura storica che ha visto anche purtroppo l'esperienza negativa dell'ultima guerra, è stata toccata diciamo così in prima persona, ma ha visto anche la rinascita di forme educative nuove, anche lo possiamo dire attraverso l'attuale preside, il professore Massimo Ciglio che ci ospita. Ecco, per cui ricordiamo nuovamente l'appuntamento e sottolineiamo che questo è un progetto al quale proprio il Movimento 5 Stelle tiene particolarmente. Esatto, perché si tratta degli stati generali della scuola, è un evento nazionale, che il Movimento 5 Stelle ha già replicato in altre sedi nel paese e questo momento è un momento di verifica dello stato delle cose nel mondo della scuola e anche progettuale. Noi ci teniamo che gli insegnanti, i presidi, gli educatori, i genitori partecipino perché è una costruzione dal basso, fatta in profondità, fatta con coscienza e fatta soprattutto con partecipazione e voglia di cambiare. E allora in bocca al lupo e buon lavoro, vive il lupo, a questo punto è così. E allora ringrazio, grazie per essere stato con noi, ringraziamo ancora Romolo Perrotta, attivista del Movimento 5 Stelle. E noi ci vediamo più tardi, grazie ancora. Grazie, grazie.